E siamo con i giovanissimi protagonisti di Angeli e Demoni, siamo con Daniela Kofler e con Paolo Gatti. Allora Daniela, come nasce questa intensa esperienza di Angeli e Demoni? Dunque, nasce innanzitutto da una conoscenza con la regista Carla Todero, che ringrazio per aver chiesto a noi di collaborare per questa esperienza, secondo me è importantissima. Non solo dal punto di vista artistico, perché comunque confrontarsi con certi testi per noi attori è sempre comunque motivo di crescita, di approfondimento. E quindi, soprattutto dal lato artistico è stata un'esperienza fondamentale, però anche il poter partecipare nel dare messaggi così importanti, poter prestare la propria voce, la propria esperienza per veicolare appunto messaggi sì di denuncia, ma vogliamo dire anche di speranza, perché poi l'ultima parte dello spettacolo mira anche a quello, insomma. Noi crediamo che tutto questo possa essere superato. Superato attraverso, Daniela? Sicuramente attraverso, io penso, l'impegno di chi ha il potere di cambiare le cose, però non dobbiamo solo rimandare a chi sta più in alto di noi, perché l'impegno è poi di ciascuno di noi, ognuno deve portare la propria esperienza, ognuno deve poter difendere l'ideale in cui crede e dimostrarli con la propria vita, perché ognuno di noi può fare qualcosa, insomma. Da dove, assolutamente, da dove nasce il tuo sogno di teatro e di vita? Dunque, il mio sogno nasce diversi anni fa per gioco, poi ho avuto l'opportunità e l'onore di studiare con un grandissimo maestro che è Mario Scaccia e di lavorare con lui, che mi ha fatto scoprire il bello del teatro, le emozioni che può dare, l'importanza che ha anche a livello sociale, quindi non solo teatro come divertimento, ma teatro come comunicazione di messaggi importanti. E poi da lì ho cercato di approfondire con altri grandi maestri, quindi, insomma, sono contenta di questo. Grazie, Daniela. La stessa domanda, come nasce il tuo sogno di teatro e di vita? Mi piace dire di teatro e di vita. Di vita, che è la cosa poi più importante. Il mio sogno di teatro nasce piccolino, seguendo mio papà, che è un cantante lirico, in giro per l'Italia, quindi vedevo questa grande possibilità che l'uomo ha di cambiare ogni sera, potendo interpretare dei personaggi sempre diversi, quindi questa grossa passione mi viene così. Poi ho avuto la fortuna e il piacere di studiare con un grossissimo attore che è Paolo Ferrari. Ci tengo molto a sottolinearlo perché mi ha dato appunto questa apertura verso questo mestiere che ritengo uno dei più belli, più affascinanti che si possano fare. E recitare poi, in fondo, nient'altro che scoprire lati segreti che vivono nel nostro inconscio e che chiedono forse... Sì, sicuramente, perché noi siamo tante cose e quindi attraverso, diciamo, lo studio dei personaggi possiamo sviluppare anche quello che siamo noi, noi stessi. È un mestiere affascinante anche da questo punto di vista. Il mondo contemporaneo, più angeli o più demoni? Ma noi giovani abbiamo la speranza che via via che passano gli anni nascano sempre più angeli perché ne abbiamo proprio bisogno. Sembra una frase scontata, ma oggi di scontato pare che non ci sia più nulla. Anzi, le cose più semplici sono quelle più difficili. Purtroppo credo che forse il mondo contemporaneo è fatto più da demoni. Però noi stasera siamo qui per aprire, come diceva la mia collega, una speranza soprattutto. Una speranza e poi attraverso il teatro, che è forse uno dei ponti di comunicazione più forti, più importanti che l'uomo ha a disposizione, per arrivare al cuore di queste persone e per fargli sentire il nostro impegno, ognuno nel suo piccolo. Quindi una grande speranza, ecco, stasera. Grazie di cuore, ragazzi. Mi piace sottolineare questa performance di questa sera come una provocazione alla speranza. Grazie, grazie di cuore.